La plastica è un bel rompicapo, si può riciclare all'infinito, ma solo se ben selezionato. E allora facciamo chiarezza. Prima domanda. Questa è plastica? Se la risposta è sì, possiamo passare alla seconda domanda. È un imballaggio? L'imballaggio è il contenitore dei prodotti che compriamo. Se la risposta è ancora sì, passiamo alla terza domanda. Ho svuotato e pulito i contenitori? Se la risposta è ancora una volta sì, allora ci siamo. Possiamo mettere la plastica nel contenitore giusto. Tutto chiaro quindi? Plastica, imballaggio, pulito. Tre sì per tre domande. Non c'è riciclo senza qualità. E la qualità dipende da noi.